Stasera parliamo ancora di piccole e medie imprese guardando una serie di servizi gestiti direttamente dalla Commissione europea o sostenuti dalla Commissione appunto a tutela e a sostegno delle piccole e medie imprese europee. Innanzitutto diritti di proprietà intellettuale, argomento importantissimo per le aziende che vogliono investire nella ricerca, nell'innovazione tecnologica, nel trasferimento tecnologico. La Commissione europea mette a disposizione un help desk che offre servizi di consulenza professionale completamente gratuiti in materia di diritti di proprietà intellettuale. Scrivendo si ottiene risposta in soli tre giorni lavorativi sulle materie che riguardano le proprie esigenze specifiche e non questioni di carattere generale. Analogamente la Commissione europea sostiene anche la rete degli uffici che tutelano i diritti di proprietà intellettuale a livello nazionale, quindi mette in rete 30 uffici di riferimento nazionale appunto in 30 Stati, di cui 28 dell'Unione europea. Anche qui quindi troviamo informazioni di base sulla proprietà intellettuale fino a informazioni più specifiche su quelle che sono appunto le proprie esigenze specifiche in materia di diritti di proprietà intellettuale, quindi di tutela, attribuzione e gestione. Poiché i diritti di proprietà intellettuale sono appunto uno dei temi più importanti quando si esporta, ecco che la Commissione europea ancora sostiene degli uffici locali in alcuni paesi difficili, chiamiamoli così, come il sud-est asiatico e alcuni paesi dell'area dell'America latina. Anche in questo caso quindi si ottengono informazioni mirate su quelli che sono in materia appunto di proprietà intellettuale nelle specifiche aree geografiche di riferimento esterne all'Unione europea. Ecco ancora la Cina e il fatto che esista appunto una home page in italiano mostra appunto quanto questo mercato sia diventato rilevante per le piccole e medie aziende europee. Anche qui quindi si ottengono non solo informazioni ma soprattutto anche formazione, consulenza specifica, formazione oltre che informazione. Quindi le aziende possono aderire a corsi di formazione in materia della tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Cina, la contraffazione, partecipare a webinar, quindi la possibilità di partecipare a seminari gratuiti direttamente via web e aderire appunto come dicevamo a delle vere e proprie sessioni di formazione. Ancora poi la Commissione europea finanzia dei centri d'impresa direttamente in determinate aree geografiche ritenute strategiche per le aziende europee che vogliono fare internazionalizzazione. Uno di questi appunto riguarda sempre il sud-est asiatico ed in particolare la Thailandia. Poi venne un altro in India, il centro appunto che ha sede a Calcutta è particolarmente specializzato in materia di ambiente, quindi in esportazione di tecnologie pulite europee in India e collegandosi appunto al portale che vedete alle mie spalle si ha l'opportunità anche di partecipare ai progetti di ricerca, sviluppo tecnologico e appunto che riguardino ambiente, trasporti, tecnologie pulite in partenariato appunto con aziende indiane. Un altro mercato di interesse per l'esportazione delle piccole e medie aziende europee è il Giappone e anche qui quindi con il sito Business in Japan si ha l'opportunità di andare a vedere i preliminari per iniziare appunto a penetrare anche il mercato giapponese. In particolare il centro appunto per la cooperazione industriale dà la possibilità di accedere non solo a servizi immateriali quindi di consulenza specifica su determinati argomenti ma anche la possibilità di avere sempre a titolo gratuito ribadiamo dei servizi materiali come ad esempio il supporto logistico quindi le aziende che vogliono usufruire di spazi in locali al centro appunto di Tokyo possono mettersi in contatto con Step in Japan che è una delle sezioni del sito EU Japan e aderire appunto al programma e attendere di vedere confermata la propria candidatura ad usufruire per periodi di tempo variabili di un appoggio logistico appunto come dicevamo a Tokyo in Giappone. Analogamente vengono finanziati quindi sempre gratuitamente per le piccole e medie imprese aderenti dei programmi di formazione quindi dei veri e propri programmi di formazione che questo centro di cooperazione industriale organizza e borse di studio messe in palio per i partecipanti provenienti dalle piccole e medie imprese. Questo discorso appunto della formazione finanziata quindi lunghi periodi di formazione finanziata anche fino a 24 mesi riguardano oltre che il Giappone anche il Sud Corea quindi la piccola e media azienda può inviare la risorsa che deve destinare poi ad essere export manager per quell'area geografica a frequentare un corso di formazione che prevede chiaramente anche la formazione linguistica. Lo stesso centro di cooperazione quindi industriale di cooperazione tra imprese c'è anche in Cina e anche qui registrandosi si ha accesso a tutta una serie di servizi che vanno dalla formazione appunto alle missioni commerciali alla consulenza e all'informazione su materie specifiche. In ultimo c'è un sito Gateway che ancora una volta diciamo è concentrato sul Giappone e sulla Corea e organizza anche qui missioni commerciali e quindi scambia anche possibilità di partenariati commerciali tra imprese europee, giapponesi o sudcoreane in determinati e specifici settori. Uno di questi ad esempio è il settore dell'alta moda. Abbiamo concluso per stasera, arrivederci!